buongiorno risolviamo la seguente espressione un undicesimo per cento ventuno per undici alla terza diviso undici ora possiamo riscrivere un undicesimo come undici alla meno uno che moltiplica cento ventuno ovvero undici alla seconda per undici alla terza diviso undici applicando le proprietà delle potenze otteniamo undici alla meno uno più due più tre meno undici è uguale a undici alla prima quindi uno che sarà uguale a meno uno più due è uguale a due meno uno quindi uno più tre quattro meno uno tre quindi due alla terza due alla terza è uguale a otto ovvero c'è undici alla terza il due non c'è ma la base è undici quindi la soluzione sarà undici alla terza bene per il momento è tutto arrivederci al prossimo video